ciao raga nuova giornata di pesca oggi andiamo a caso la valsegno all'area 51 perché vogliano divertirci un po una roba molto easy andiamo a prendere il nostro gianluca e oggi avremo uno special guest zeno zaccherini guardiamo a destra guardiamo a sinistra via si parte raga eccola raga il carpisto migliore delle vigne romagna ancora la polvere raga lui farà parte del nostro canale ogni tanto però verrà sempre con questo cappellino perché è molto sexy raga l'importante con solo la canna e basta bentornato ecco raga questa è l'attrezzatura molto easy eccoci qua da zeno e ora arriva al petto forte una bellissima carica di euforia oggi al lago area 51 e andiamo gialluca tadonio ma stile anche quando viene a pescare con la carriolina amici di warfishing fish on ma che bella ma che padella che è quella quella della grossa bella questa e c'è chi prende i pesci e poi c'è lui la fi no mi scappa che mi scivola sulla mano di italia bravo hai preso puttana bravo mi serve le pinze adesso vi racconterò una storia un giorno gianluca tadonio preso un pinocchietto un pinocchietto di una decina di chili non era troppo grosso il giorno dopo cosa succede misero un piede qui sai che fine ha fatto in tl'acqua in tl'acqua tot in tl'acqua super zeno che prende un pesciotto cinese ma enorme raga made in china qua tanta roba vediamo un po la bolla l'esperienza incredibile tira come una troia in calore merda questo è bello prende reti uno sparata no e come lo tiri su lo storio adesso voglio vedere si tirano senza reti segna jtd come si prendono gli stai per la coda non ci arriva se non finisci in acchio per la seconda volta è vero che tu in re per il secondo mondo video storico tira lo su tira lo su tira l'altra volta mi ha picchiato merda puttana che carpa questa è una carpa gigantesca vai albe facci vedere come incassi allora prendere reti a conchetta così conchetta come le fighe a conchetta vediamo sto facendo una pratica ragazzi non sono abituato come frigge qua fa sentire il friggino come ruota sta friggendo raga sta friggendo alle prese della della big carpa guarda guarda come carico guarda come carico guarda quanto cazzo è carico va 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 puttana che schiena che c'ha così ingabbiata e fu così che lei merda sei che rossa questa è una cernia vecchia bella 25 kg peccato che non abbiamo l'ampezza ci crediamo merda ti giuro che sembra la mia regina che ho preso io vado a leghiare questo posto raga raga velocemente questa è una tranquillamente 20 kg se non di più guarda le vali allontana le mani così vedi ok sicuramente non riusciamo a prenderla proviamo a fare il posing questo mi ricorda tanto la 30 kg che avevo preso ok prendi bene da lontano da lontano devi vedere la massa di questa carpa vai via madonna stai bloccato amici di warfishing qua Alex trova una situazione molto pericolosa nel deserto del mategala nell'unica oesi respirabile Alex sta affrontando il mostro della laguna protetto protetto da san montana chi no? oh oh no support hu è la maniera è un grande, gigante è un grande, gigante sì, vabbè 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 rilascia rilascia questo è l'ostorione bianco sarà sui 20 kg adesso lo rilasciamo rilascia pronto? abbiamo quasi terminato la giornata intanto facciamo vedere il basso per chiudere voglio fare una cosa bellissima che tipo, qui c'è Alex questo è bellissimo ciao ragazzi